Il pubblico in diretta Ciao, Sam Che succede? Oh, niente Solo la fine del mondo Ti servirà una bocca più grande Aspetta Hai già fatto le tue ricerche? Oh, sì Ogni genere di ricerca, tutta la notte Ah, sì? Ahem Ehi, Dean Abbiamo ancora altre ricerche da fare Dean Figlio di puttana Che stai guardando? Un telefilm sui medici Dottor Sexy MD È tratto da un libro Sei entrato in meno pause? Stavo solo facendo zapping Ma che succede? Ma che succede? Dottore? 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 Sei bravo Cosa? Dico sul serio Sei un medico brillante E un codardo Sei un brillante codardo Di che stai parlando? Non fare finta di non capire Non è possibile Cosa? È proprio lui Chi? Il protagonista Il dottor Sexy Dottore? 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 È reale È reale No, no, no No, no, no Ehi! Ehi! Ci serve un dottore! Dottore? Pressione 80 su 50 In calo Dottore? Che c'è? Sam! Fa qualcosa Andiamo Non so Come si usano questi ferri Cerca di capirlo Sam Andiamo Sbrigati Ok Sta calmo Allora vorrei Un temperino Del filo interdentale Aghi da cucito E una bottiglia di whisky Muovetevi Sì, presto Don Andiamo Ehi! Ehi! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ljubi! Mi dispiace, sono necessità! Le dispiace? Le dispiace per cosa? Din? Schiaccianoci! Schiaccianoci! Sì! 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 Dean Winchester, il prossimo problema è... ... Via al tempo! No Quattro a Sotto so Sotto so Sotto so Sotto so Secai Digun wikisa il campione di Skaccia noci Come ci sei riuscito? Ne ho idea. Io ho l'herpes genitale. Io ho l'herpes genitale. Non ce la faccio. Ehi, è stata tua l'idea di recitare i nostri ruoli. Vai, giusto. Io ho l'herpes genitale. Ho cercato di essere responsabile. Ci ho provato anch'io. Ma ora prendo due volte al giorno erpexia per ridurre le probabilità di contagiare gli altri. Chiedi al tuo medico prima di usare erpexia. Consulta il medico prima dell'assunzione di erpexia. Fra i possibili effetti collaterali ci sono emicrania, diarrea, disfunzioni erettili permanenti, istinti suicidi e nausea. Io faccio del mio meglio per diminuire la possibilità di contagio e diffusione della malattia... dell'herpes genitale. E ne sono orgoglioso. Andiamo! Allora, che ne pensi? Che ne penso? Va a farti fottere, ecco che ne penso. Dacci solo un secondo, per favore. Grazie. Cerca di calmarti. Calmarmi? Porta un paio di occhiali da sole di notte. Sai chi li mette? Gli imbecilli senza talento. Detesto questo gioco. Detesto trovarmi in un telefilm poliziesco. E sai perché? Perché detesto profondamente questi telefilm. Ce ne sono 300 in televisione, sono tutti uguali. Uh, l'aereo è precipitato qui. Non li sopporto! Ehi. Che c'è? Dà un'occhiata al golosone. Credi che sia lui? Ora vediamo. Leggimi il gioco. Tutto bene, ragazzi? Sì. Cosa abbiamo? Beh, a parte i segni di corda intorno al collo, aveva un rotolo di monete ficcato in gola. Beh, allora dico... Jackpot. E poi... Ha una ferita da taglio nella zona addominale. Beh, io dico... Niente gloria senza fegato. Date a questo tizio... Un digestivo. Un bel po'. Sam. Dove sei? Non lo so. Oh, merda. Di sicuro non abbiamo ucciso quel bastardo. Dean? Che c'è? Ti confesso che sono un po' nervoso. Hai? Sei sicuro che funzionerà? No, ma non mi vengono altre idee. Va bene, figlio di puttana! Vieni fuori! Lo faremo! Vuoi che suoni il clacson? Wow! Sam, mi piacciono i tuoi cerchioni. Futtiti. Ancari. Si.